Ho cominciato a lavorare al porto che avevo nemmeno 15 anni, ho finito terzo avviamento, sono capitato lì per caso con dei miei amici in piazza Rebagliati e da lì ho cominciato e ci sono rimasto fino al 2000, sono rimasto lì, da 63 al 2000, ho visto i portuali con i sacchi in spalla e poi ho visto lavorare le macchine, dai nastri alle gru, alle macchine ai carelli per la cellulosa e così via. La prima chiamata che ho fatto per alzata di mano, perché andavi lì in piazza quando aveva esaurito tutte le liste che non c'era più di gente che era iscritta in lista, alzavi la mano, quello dalla finestra ti diceva a te, vai a lavorare, ti diceva vai alla tale zona, alla tale nave, fai il numero 2, 3 e così via. La prima chiamata che ho fatto mi ricordo, era la nave che si chiamava Rosatere, era la zona 12, sbarcava Natta, balle di Natta. Pacchi di sughero, sai il sughero, quello che arriva dalla Sardegna, era un balle che saranno stati 50-60 kg in uno e arrivavano con la gru, ne portava 5-6 alla volta e la mettevi sui camion e le mettevi a posto. Eravamo tutti ragazzi di 15 anni, non è che c'era, perché ormai aveva esaurito tutti, li chiamavano raccoglietici allora, non occasionali, raccoglietici. Era sempre l'ultimo che rimaneva, sai, perché era la paga, penso che era quello che ci usciva meno di tutti, perché per fare un camion di quella lì ci mettevi mezza giornata, capisci? Non rendeva, come so, i soci lo rifiutavano, poi gli avventizi magari erano già a lavorare da un'altra parte e poi rimaneva sempre, ho lavorato lì. E poi dopo qualche mese mi hanno messo nella lista degli occasionali, che forse allora ce n'era addirittura due liste degli occasionali, prima e seconda lista, poi ci hanno unificato tutti e andavi sempre a lavorare, dopo va bene, quello che lasciavano i soci, poi c'era gli avventizi e poi rimanevano gli occasionali, no? E poi nel 1970 sono passato a ventizi e del 70, mi sembra il primo aprile del 73 sono passato socio. Quando eri socio potevi, potevi sceglierti la merce, addirittura la nave, sai, rifiutavi magari una nave per andare su un'altra, o perché guadagnavi di più, o perché era meno fatica, o perché finivi prima, o per dire, andavi alle saccherie, era legata al tonnellaggio, non era legata all'orario, per esempio andavi via le macchine e lì o se facevi presto per finire un numero di macchine poi te ne andavi. E poi per esempio c'erano dei lavori, non so, c'erano dei lavori che magari erano scartati, perché o rendevano poco o perché erano più pericolosi o perché c'era polvere, sai, perché cercavi di evitarli, sceglievi il lavoro. Per esempio io preferivo andare piuttosto alla saccheria che andare ai container per l'altezza, se mi facevano scegliere io andavo alla saccheria, perché per esempio andare su un container, sai, sei a un'altezza, oppure c'erano i lavori per esempio come i profilati, il ferro, quella roba lì, attivarli che se ti toccava un stile, era un po' più pericoloso, allora cercavi di evitarli, come dicevamo prima, le rotaie, quei lavori lì cercavi di evitarli perché, sai, era pericoloso, ci potevi lasciare le mani, ci potevi, oppure potevi cadere, tutto. Ai fortuni ne ho avuto due, una volta mi sono rotto una gamba, una volta ho lasciato la mano, un'imbragata di profilati, mi sono rotto un dito, e con la volta della gamba era, era vada le banane, c'avevo un transpalles, è passato uno con un rimorchio, mi ha investito, mi sono rotto la gamba, è andata bene, è finita. Qualche d'uno se l'è vista brutta, uno aveva preso addirittura un'imbragata di banane che l'aveva schiacciato, era stato, poi rispetto a due o tre ci hanno anche lasciato la pelle il periodo che ci sono stato io, e proprio con me non è successo, però ti ricordi sei fatti, uno, un'imbragata l'aveva buttato giù in stiva, e, aspetta, un'altra, un ragazzo c'era caduto un pacco di legname addosso, sai, sono quelli che te li ricordi, no? Noi scioperi ne abbiamo fatto, eravamo sempre in prima linea per gli scioperi, mi ricordo sai quando c'erano le bomba a Savona, che si siamo fermati, poi facevano le ronde, quegli anni lì noi, non so se eravamo, avevamo portato tutto praticamente che era stato abolito l'occasionalato, eravamo poi tutti i soci, no? E eravamo, abbiamo raggiunto il massimo del numero, 1200 mi sembra, no? 1100, 1200, eravamo occasionali, non ce n'era più, siamo passati tutti i soci, e, era una categoria che eravamo, eravamo unite e forte, e poi piano piano ci han tagliato le gambe, siamo, non è che, non credo che siamo usciti bene, che siamo, che adesso quelli pochi che sono rimasti, non è che siamo, che sono sai tanto ben messi, no? Però, poter ritornare indietro ti dico che, come categoria forse era unica, c'era un'unicità perché, perché io penso che anche negli altri, negli altri comparti, nei ferrovie, con la roba lì, come noi, non sono mai stati, ecco. I primi tempi c'era, penso, la copitaneria di Porto che c'erano le tariffe depositate e andavi con quelle, no? Arrivava un'agenzia marittima, ti diceva devo sbarcare sta nave, c'era una tabella con le tariffe in capitaneria che tutti gli anni venivano aggiornate e andavi con quella tabella lì. Poi è venuto l'ente Porto, le trattava l'ente Porto, le tariffe, no? Direttamente, e poi era sempre quello, eh? Dovevi tirare sulla tariffa perché sennò ti dicevano guarda o la fai a sta tariffa qua o sennò la nave se ne va a Genova, se ne va a Livorno, se ne va da un'altra parte, capisci? Dovevi tirare sulla tariffa, allora, tirare sulla tariffa, il gioco cos'era? O levare delle persone o guadagnare meno. I scioperi per quello non credo, sai, perché i scioperi li abbiamo fatti contro le autonomie funzionali, le funivie, però a quel periodo lì finché ci siamo stati, va bene, poi dagli anni 90 è cambiato tutto, ma i primi anni era tutto un affare coordinato, capisci? C'erano le tariffe, piuttosto trattavano le tariffe che dovevi fare dei grandi sconti, delle cose, però eri autogestito, ti eleggevi dal presidente all'ultimo dirigente, no? E leggevi e l'elezione era, praticamente tutti quelli che erano nel ruolino li potevi votare, no? C'era, come si chiama, diciamo le primarie, come dicono adesso, no? Tiravi fuori due o tre nomi, poi su quei due o tre nomi li votavi. E poi c'era l'autogestione del lavoro che, come hanno detto prima, quelli che mi hanno preceduto, ti gestivi il lavoro, praticamente la squadra si gestiva il lavoro, capisci? Poi se eri una squadra affiattata, finivi la giornata che ti dispiaceva quasi andare a casa, ecco, perché c'era scherzi, ridevi, sai, era tutto lì, ti divertivi, perché c'erano, sai, anche, non so spiegartelo adesso, ma c'erano anche dei numeri che erano unici al porto, sai, il gilet era, scrollanoci, il bozzo, sai, era un po' come essere a drive-in, sai, quelle, a zeliga, quelle cose lì, no? Poi gli ultimi anni va bene cambiato, perché, sai, il lavoro era venuto più tipo fabbrica, no? Le banane a nastro, lì alle sei al mattino attaccavano il nastro e cominciavi a lavorare, fino alla mezza lavoravi. Però invece, per esempio, quando eri alle saccherie avevi il tonnellaggio, attaccavi all'orario e quando avevi finito te ne andavi. Magari eri fino alle otto, alle quattro e mezza, alle cinque al pomeriggio avevi già finito, al mattino alle dieci avevi finito. E così, e così, alla farina di pesce, per esempio, prendevi la stiva a cottimo, quando la finivi te ne andavi, capisci? Guadagnavi un'ora, due delle volte sull'orario, eri, capisci, era un lavoro che era unico, eh. Con quello che guadagnavi lo rimettevi con l'impegno, con il cottimo, con la fatica, con il sudore che c'era, che facevi dei lavori che penso quelli dalle altre parti non si sognava nemmeno. Rischio e fatica, sai, perché erano quelle due, c'era quelle due parole lì, rischio e fatica, perché. Poi non sapevi, va bene, all'inizio era nave per nave, poi addirittura era giorno per giorno, andavi la chiamata alle otto, non sapevi se andavi a lavorare alle due, o se addirittura facevi festa, poi facevi la notte, o se facevi festa addirittura, non sapevi. Dire prendo un impegno tra una settimana non potevi, ecco.